Il cammino della nostra comunità, il percorso della nostra fede, una lettura attenta della settimana religiosa e degli avvenimenti ecclesiali, su Nuova Radio Piene, Spazio Diocese, incontriamoci. E come già anticipato siamo molto contenti questa mattina di avere ai nostri microfoni, oltre al nostro direttore Don Paolo Padrini che salutiamo, il nostro Vescovo Padre Vittorio Viola, per un messaggio pasquale a tutti i nostri ascoltatori. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Vi lasciamo la parola, vi lasciamo la parola per questo importante momento che davvero siamo contenti di avere. Intanto ringrazio io della presenza al nostro Vescovo, è sempre una gioia vera tra noi, l'abbiamo già incontrato qui nei nostri studi, proprio nei primi giorni della presenza in Diocesi, ci eravamo riproposti di invitarlo il più possibile e a Pasqua non poteva assolutamente mancare questa parola. E quello che noi chiediamo veramente con desiderio di ascoltarlo al nostro Vescovo è di darci il suo augurio particolare e il suo messaggio per questa Pasqua. Tra l'altro sappiamo che, tra l'altro lo diciamo per i nostri ascoltatori che potranno leggere sul settimanale Diocesano il popolo di questa settimana, il messaggio di nuovo importante del Vescovo, tra l'altro con pagine dedicate anche all'attività di queste settimane, soprattutto dedicata alla Pasqua. Quindi facciamo molto 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 volentieri pubblicità al nostro settimanale Diocesano. Ai vicini di casa perché poi siamo qua. Ai nostri collaboratori perché tanto ci vediamo, ci frequentiamo moltissimo e siamo molto contenti. Però ecco al Vescovo molto volentieri chiediamo una parola di presenza che arriva ai nostri ascoltatori che ci sentono da Novi, da Tortona, ma quindi da una buona parte della nostra Diocese. E che ci ritrovano anche sul sito radiopnr.it quando vogliono. Quando vogliono. Bene, io sono ben contento di poter raggiungere gli ascoltatori di Radio PNR e devo anche ringraziare per il servizio che viene svolto dalla radio, dal sito che rende possibile appunto far arrivare la parola del Vescovo e non solo in tanti luoghi. Ma a pensare alla Pasqua dobbiamo, corriamo sempre un po' il rischio di consumare questi grandi eventi perché di un evento si tratta dentro quelle che sono tradizioni, anche buone, che segnano questi giorni di festa. Il rischio è appunto quello di non cogliere fino in fondo qual è la potenza della celebrazione della Pasqua. Perché, dicevo, si tratta esattamente di un evento, non semplicemente di un ricordo, di tornare con la mente ai fatti della passione, della morte, della risurrezione di Gesù. La liturgia ci dà questa opportunità inaudita di poter essere presenti a quegli stessi eventi che sono talmente nuovi da essere unici e quindi non ripetibili. Possono essere resi presenti appunto, nemmeno rappresentati, ma ripresentati perché ciascuno di noi possa starci dentro con la propria vita. Se pensiamo questo, la Pasqua è un passaggio, è sempre un passaggio di liberazione, da morte a vita, da una schiavitù ad una libertà. Ed è chiaro che vivere la Pasqua vuol dire poter prendere la nostra vita di quest'anno, del momento che stiamo vivendo appunto, con tutto ciò che vuol dire, con quelle che possono essere le gioie, ma anche i dolori, le prove, le sofferenze, soprattutto quelle esperienze di morte che ci portiamo dentro. Il peccato è sempre un'esperienza di morte. Prendere la nostra vita e immergerla dentro la Pasqua per poter assorbire in noi la forza liberante, la forza di salvezza che la Pasqua viene a donarci. E questo poi chiaramente diventa per ciascuno di noi un passaggio preciso, puntuale. C'è un luogo di schiavitù dal quale la Pasqua ci vuole tirare fuori. C'è un'esperienza di morte dentro la quale la Pasqua vuole farci vivere un'esperienza di vita. Ed è vero personalmente, la vita di ciascuno di noi è coinvolta dalla Pasqua, ed è vero anche come comunità cristiana, come comunità parrocchiale, come comunità diocesana. Tutti noi siamo chiamati a fare sempre un passaggio che, forte della vittoria di Cristo sulla morte, ci apre orizzonti nuovi, orizzonti di speranza, di vita nuova. Dalla Pasqua nasce una vita nuova. Ed è quello che tutti noi siamo chiamati a sperimentare, che ci viene dato proprio, ci viene offerta come esperienza per poter continuare a testimoniare nel mondo che Gesù Cristo è vivo, risorto, vivo, presente dentro la vita di quanti credono in Lui. Mi verrebbe da chiedere una cosa così molto concreta al Vescovo. In questi giorni abbiamo partecipato a, in questo periodo di Quaresima, abbiamo visto una forte esperienza di presenza ai martedì durante la Catechesi. Una chiesa presente, la chiesa di Tortona, ma non solo perché il duomo era pieno, per carità, anche perché puoi riempire un duomo, al limite si fa anche presto. E poi abbiamo visto, qualcuno avrà certamente partecipato pregando insieme, mercoledì sera abbiamo avuto il momento della celebrazione della confessione in duomo, in una forma che è un po' insolita nelle nostre parrocchie, dove spesso il prete lo si prende al volo quando si può, quando arriva, eccetera, che è quella fatta insieme, diciamo, uso una parola magari non liturgicamente corretta, ma visivamente plastica. L'abbiamo fatto insieme e mi avrebbe da dire, da chiedere, ma qual è proprio dopo un po' di mesi, ma di presenza in mezzo a noi, la sua impressione proprio sulla chiesa, sul popolo che sta incontrando e anche sul suo bisogno, perché poi bisogna anche da interpretare, ma c'è, sul bisogno, se c'è, bisogno di incontrare il Signore, di trovarsi, di fare chiesa, di vivere insieme in momenti, soprattutto di preghiera. C'è questa richiesta, c'è questa domanda, vede questi interrogativi, questi bisogni in noi, ecco, perché ci piacerebbe anche avere le impressioni proprio del nostro Vescovo su questo. Ma sicuramente sì, sia i fatti che hai ricordato, Don Paolo, la presenza così assidua e numerosa ai martedì del Quaresimale, ma al di là dei numeri, perché i numeri possono sempre un po' ingannarci, ma al di là dei numeri la qualità di ascolto che mi pare di aver avvertito in queste sere e anche alcuni ritorni, riscontri che poi personalmente molti hanno voluto fare, voluto così testimoniare. Sono un segno di un grande desiderio di una parola che non sia una parola solo umana e che non siano semplicemente le nostre considerazioni, valutazioni. Abbiamo bisogno di una parola più alta e più profonda, una parola che possa entrare dentro di noi e fare luce dentro di noi, anche mettere ordine dentro di noi, nella nostra vita. Ed è chiaro che questa parola ci può solo venire da Lui. Poterci radunare per ascoltare insieme una parola e quindi per fare esperienza della presenza del Signore che continua a parlare alla sua Chiesa, questo fa parte della vita della Chiesa, la Chiesa vive di questa presenza. E devo dire che ovunque ho trovato questa attenzione, questo ascolto, questa docilità, questo desiderio di incontrare il Signore. E questo penso che debba esserci di stimolo, insomma. Penso soprattutto a chi condivide con me la responsabilità di essere pastore. Il Papa ha parlato nella Messa Crismale di una stanchezza che a volte accompagna i pastori. C'è una stanchezza buona che è quella di chi si spende nel ministero, c'è una stanchezza che invece viene solo da noi, dall'essere troppo centrati su di noi. Il sentire come il popolo di Dio desideri, ma il mondo intero penso, desideri, abbia sete proprio, sete e fame di una parola di salvezza. Questo deve essere per noi davvero un motivo per rinnovare il nostro impegno, la nostra dedizione, il nostro volerci spendere appunto per l'annuncio del Vangelo. Che è un po', penso, la direzione sulla quale dobbiamo continuare il nostro cammino di Chiesa. Continuamente Papa Francesco ci invita ad assumere questo atteggiamento di una Chiesa in uscita, che si confronta col mondo non con la paura del mondo, ma con il desiderio di poter parlare al mondo di quell'unica parola che il mondo attende, che è Gesù Cristo. Avere il coraggio e la gioia, soprattutto la gioia, di poter annunciare il Vangelo. Quindi di liberarci anche da tante considerazioni troppo umane, che finiscono sempre per intristirci. Questo penso sia la direzione verso la quale dobbiamo camminare. Una Chiesa gioiosa per la presenza del Risorto, che vive la gioia di poterlo annunciare nel mondo. Ed è chiaro che in questo dobbiamo anche mettere, come stiamo cercando di fare, mettere a frutto quelle che sono le nostre capacità, anche le esperienze passate, la valutazione di cosa poter insieme fare per poter appunto arrivare a portare a tutti l'annuncio gioioso del Signore Risorto. È quello che in questi mesi stiamo ancora cercando di capire insieme, anche se abbiamo già alcune linee abbastanza condivise. Adesso inizierà un secondo tempo nel quale sarò presente alle riunioni dei vicariati per poter cercare di concretizzare anche uno sguardo nuovo sul nostro modo di stare nel territorio, a partire anche da alcune priorità che vogliamo darci, perché la nostra Chiesa sicuramente vive delle urgenze. Penso alla pastorale giovanile e familiare, delle giovani coppie in particolare. Penso alla pastorale vocazionale come due ambiti nei quali doverci impegnare volendo credere, ed è una visione di fede, in una prospettiva di futuro, carica di speranza per questa nostra Chiesa. A partire da queste priorità, poi comprendere come possiamo essere presenti nel territorio senza abbandonare nessuno, cercando appunto di essere attenti ai bisogni di tutti, con le forze che abbiamo, ma soprattutto con la forza che la Ressurrezione del Signore dà alla vita di ciascuno di noi. Sì, mi verrebbe da dire, per una Pasqua che sia anche una Pasqua di nuova vita, di ripartenza, perché effettivamente dopo Pasqua ci sarà anche molto da lavorare, immaginiamo, e questi momenti, i vecariati, lo spieghiamo per chi ci ascolta, sono le realtà che raggruppano e tentano di organizzare in una dimensione di comunità, di comunione, di insieme sul territorio, quelle che sono le attività delle varie parrocchie. A Tortona ci sono delle singole parrocchie, poi le parrocchie si trovano insieme e formano una realtà che si chiama vicariato, che è quella con cui appunto si ricomincia, si continuerà, perché c'è stato già un giro e si farà un nuovo giro di confronto. La nostra diocesia è un territorio molto vasto e anche molto complesso, perché è un territorio composito. I vecariati sono quelle unità di territorio dove si può riscontrare una maggiore omogeneità, dove quindi anche il doverci confrontare con alcune direttrici che ci stiamo dando dà poi più concretezza anche alle scelte in base appunto a quelle che sono le esigenze di un territorio, alla distribuzione della popolazione, alla conformazione appunto e all'esperienza anche delle comunità che vivono in quel determinato territorio. Sì, e poi mi piace sottolineare anche una rinnovata e costante e continua disponibilità anche di ascolto, se lo dico come prete, disponibilità di ascolto nei confronti dei sacerdoti, perché insomma è con noi che credo sia giusto strutturare sempre di più un rapporto e una comunione che poi è qualcosa che va oltre lo stare un po' insieme o ma è questione proprio di essenza dell'essere nostro anche sul territorio, anche un domani di ripensare a come gestire anche le parrocchie, ma come dire, l'idea che noi a volte abbiamo è che traduciamo anche per i nostri ascoltatori e che tutte le scelte che si fanno si fanno per farci vivere bene come chiesa in comunione e farci sperimentare il più possibile la bontà del Signore che insomma se riesce ad arrivare è una cosa bella, che viene gustata e fa bene, se non arriva perché ci sono le problematiche e non si riesce magari a mettersi in sintonia col territorio, ad ascoltare la gente, eccetera, eccetera, e questo è quello che concretamente una diocesi tenta di fare, non per creare un'organizzazione burocratica, ma per vivere concretamente un'esperienza che si chiama Comunione che è una cosa molto bella, quindi è una cosa che penso di cui avremo modo anche di parlare in prossimi appuntamenti perché vorremmo cercare anche come radio di aiutare il Vescovo nella formazione e anche nell'ascolto, ascoltare delle cose e ascoltarle anche in un modo nuovo un po' più giusto magari può servire a tutti, ecco, e questa è una cosa importante. Certo. Nel frattempo io tutti i lunedì leggo l'agenda del Vescovo, so che lei è in giro davvero con una trottola tutte le settimane e quindi sono sicuro che tutti quelli che sono all'ascolto avranno apprezzato queste parole, hanno apprezzato il vederla in mezzo a loro in tutti questi mesi, in questi primi mesi che poi non sono tanti, ma come già aveva chiesto Don Paolo abbiamo incominciato a conoscersi e questo è importante. Io a questo punto direi che le faccio gli auguri di Buona Pasqua lo faccio a tutti gli ascoltatori e noi le facciamo a tutti voi chiaramente. Ovviamente e quindi ricordo ancora una volta che questo intervento sarà disponibile sul nostro sito radio pnr.it tra pochissimi istanti il tempo di editarlo e metterlo online per cui chiunque avesse piacere di rivederci e di riascoltarci lo potrà fare su radio pnr.it e su diocesitortona.it Grazie ancora Padre Viola Grazie, grazie a tutti Buona Pasqua Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti